Profumi sonori anche quest'anno da parte dell'associazione Zenit 2.000 ad Avellino e per Avellino. La nostra rassegna primaverile è come si apre e così si chiude, con un evento speciale sabato 1 giugno alle ore 20 e 30 presso il Teatro Eliseo di Avellino, grazie anche al patrocinio del Comune di Avellino. Abbiamo questo evento speciale con la nostra orchestra da camera Zenit 2.000, con due solisti di chiara fama, di grande espessore, il chitarrista Lucio Matarazzo e il fisarmonicista e bandoneonista Giuseppe Sciliano, in un repertorio speciale, il programma l'abbiamo intitolato Melodie e danze dalla Francia a Sud America. Abbiamo tutta una serie di brani cantabili e ballabili, soprattutto grande repertorio del Novecento sudamericano e anche francese, con una chicca, l'opale concerto di Richard Galliano per fisarmonica e orchestra, un altro brano molto speciale che è un brano di Carlos Guastavino per chitario e orchestra d'arche e poi un bel po' di piazzola con il doppio concerto per bandoneon, chitario e orchestra d'arche e due tanghi famosissimi. Un evento che chiaramente chiude la nostra produzione ad Avellino nel mese di maggio, chiaramente giugno, il primo giugno è l'inizio diciamo di quella che sarà l'estate, per la quale proseguiremo con le nostre programmazioni, poi con l'Iri e con altre eventi in autunno, ma soprattutto continuiamo a dare il nostro contributo culturale alla proposta della città di Avellino.